Previsioni meteo per domenica 17 giugno al nord tempo stabile in gran parte soleggiato su litorali e valpadana locali piovaschi diurni o isolati temporali su alpi e prealpi al centro prevalenza di bel tempo salvo temporali pomeridiani sull'appennino e locali piovaschi non esclusi sul basso lazio al sud spiccata variabilità con temporali diurni su gargano murge salento e appennino in sconfinamento alle aree tirreniche i venti saranno deboli di direzione variabile mari da mossi a molto mossi temperature in lieve aumento